Bella raga oggi siamo qui live spero che ci siamo perché se non ci siamo alla fine sia per me e sia per la live perché l'avevo promesso in un altro video quindi qua ci stanno tre amici miei o quattro una cosa per chiedere no dovrebbero salutare let's go comunque un saluto a aspetta si chiama ok non lo posso dire perché un nome segreto a eccolo un saluto da carmine napolitano no veramente napolino napolitano sono lì c'è qui ah si vedete le cecchie non vediamo no eh guarda f*** io l'ho preso io so quando dovete cercare eh ma che c***o ma guarda quello che sei in mente eh raga un saluto un'altra persona davide ciao davide iscriviti al canale e faccia like ok ok ho attivato l'inbot ah che attivo l'inbot eh spero ah ragazzi adesso attività per tutte le armi ok no ma no ci sono due sui siedi ci sono eh vabbè va Antonietto andiamo raga se volete se volete giocare con questi qua vi lascio pure la ah scusate codice creatore MR no vengo a casa oltre mi picco di botte no MR MR il mio supporto creatore è il mio secondo supporto creatore perché il primo era piccolo portiere uno il primo eh è un altro però ce l'avevo un altro però no ciao ciao ma guarda ma guarda perché là ti fa non puoi sentire una città che te la ricordi dai piccoli portiere attenzione eh piccolo portiere al lavoro ucciderà Antonio o no è qui sotto è qui sotto no sta da me sta da me sta da me ciao eh vabbè costruisce uguale a ciao ciao ah ragazzi se mi volete ecco è una scheda eh ci smacca di scegla no no non uccide sta con la mia sua micro 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 ma fa bene non so ad aprire comunque è bello un saluto a giuseppe ah pure un'altra live un'altra volta a giuseppe di nuovo giuseppe castano un'altra volta non uccide ma non uccide si che va come vale non va è la madonna cacca lo caccio sai l'albero di natale sta proprio lì come un camper è morto è morto no dove si è morto va a morire oh non uccide ok manco un euro mi hanno calciato andati a ok l'ho detto davide già 40 euro perfetto primi euro andati a fanculo andamene arriva e i o u oddio uuu uuu il madre ho gu investing no bravo lag questa mappa lag l'agra lascia m la la l'agra 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 l'agra